Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Antonio, tanti auguri a te. Grande festa per i 103 anni di Antonio Corcillo. Nonno Antonio, nativo di Magliano Vetere, ma l'issidente a Matinella di Albanella da tanti anni, è stato festeggiato dai figli Franco, Vito Gennaro e Donato, dalle rispettive consorti, dai suoi otto nipoti e dai cinque pronipoti. Presenta la serata il sindaco di Magliano Vetere, Adriano Piano, che ha consegnato una targa ricordo a nonno Antonio. Queste sono le cose belle, soprattutto, da festeggiare per un sindaco. I 103 anni di Antonio Corcillo, che è nato a Magliano nell'8 agosto del 1921, dove ha vissuto per lungo tempo nella nostra comunità e poi si è trasferito qua a Matinella. Per noi, infatti stasera, siamo qua, io sono in veste di primo cittadino, a nome di tutta l'amministrazione e di tutta la comunità di Magliano a portare gli auguri di buon compleanno al nostro caro concittadino, al nostro eroe, perché a 103 anni avere un concittadino che festeggia i 103 anni è una cosa rara e unica. Sicuramente sì, abbiamo fatto anche quest'anno un po' di festeggiolo, giusto per ricordare i 103 anni che compie oggi. E comunque papà è originario di Magliano Vetere, è nato l'8 agosto del 1921, all'età di circa 30 anni, subito dopo sposato, si è trasferito nella Piana. Ha vissuto alcuni anni nella Piana di Pestum, precisamente a Stiliano e poi nella zona Chiorbo. Di là poi si è trasferito a Madinella nel 1965 circa e ha vissuto sempre a Madinella, diciamo, fino adesso. La sua attività principale è stata quella dell'azienda agricola con le aziende bufaline. Ha sempre vissuto in aziende di questo genere e col tempo poi, piano piano, è riuscito a costruirsi quella che è stata la sua vita, diciamo, reale. Cioè ha costruito la casa, ha costruito il suo avvenire, ha dato a noi le istruzioni necessarie, diciamo, per la vita quotidiana. E oggi possiamo ritenerci soddisfatti, diciamo, di tutto questo, di questo coso. Vai, tanti auguri! Vai!